È stato giusto introdurre le vaccinazioni obbligatorie? In molti si sono posti questa domanda, non solo i cosiddetti no-vax, ma anche coloro che i loro figli li fanno vaccinare. Tante le perplessità, come ha avuto modo di constatare anche l'assessorato all'istruzione del Comune di Sernia, che ha voluto così organizzare un incontro di studio con esperti della materia, oltre che di diritto, nella speranza di riuscire a chiarire tanti dubbi che sono circolati, soprattutto alla riapertura delle scuole. Una legge fatta in fretta e furia, in buona sostanza, ha finito solo per creare tanta confusione e una lunga scia di polemiche. Ci sono dei vaccini che sono sempre stati obbligatori e alcuni sono stati facoltativi. Il fatto dei facoltativi ha fatto sì che molti genitori scegliessero liberamente di poterli fare. Ripeto, farli adesso, in così poco tempo, trovarsi di fronte ad una situazione che ha portato anche dei risvolti sociali, perché si consideri che chi non adempia questo obbligo si potrebbe trovare fuori la scuola, quindi potrebbe non frequentare più la scuola solo perché non ha adempiuto a questo obbligo. Questo, insomma, crea veramente difficoltà e qualche problema. Io, infatti, contesto proprio la metodologia, perché magari se ci fosse stata più una prevenzione, più che altro una spiegazione di ogni gesto che adesso lo dobbiamo andare a fare, magari il problema si è stato affrontato diversamente. Ma perché si è arrivati a imporre le vaccinazioni? La spiegazione va ricercata nei dati a disposizione del Ministero della Salute. Abbiamo avuto diversi anni in cui l'introduzione delle vaccinazioni non era obbligatoria per tutte, ma erano raccomandate e proprio in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, si è potuto verificare questa cosa che nel momento in cui le vaccinazioni erano state indicate come vaccinazioni raccomandate, è proprio in questo ultimo periodo che si è avuto un calo della rispondenza all'effettuazione delle vaccinazioni. Proprio per questo il Ministro della Salute ha ritenuto opportuno dare questa drastica manovra dell'obbligo delle vaccinazioni.